Amici cari, Xur anche questa settimana ci delizierà con il suo arsenale, siamo in torre, il solito posto, siamo qui all'hangar Amici Xur, con il nostro solito giro su Instant Gaming ragazzi, in descrizione trovate il link per comprare Dragon's Dogma Perché no? Perché no? Horizon? Perché no? È il Diverz regà, perché no? A prezzi scontati con il giveaway, manca poco regà, mancano due giorni, io la botticina al giveaway la darei, tanto è gratis Magari vincite un DLC, altri giochi o quello che vi pare a voi insomma Comunque Xur, questa settimana vende L'artiglio nero Una spada di quelle che non si usano Però è una delle spade che colpisce a distanza Perché con il colpo pesante, cioè il tasto destro del mouse o il vostro paddino Fa una sversata di munizioni pesanti, gli attacchi pesanti sono più potenti quando l'energia è al massimo E in più c'è anche l'ama instancabile, con un bel filo temprato eccetera eccetera Poi il cacciatore ha Impeto Eonico, che come sapete dopo il rework ha tre possibilità di scelta per fare diverse cose Ovviamente la cosa migliore è quella di utilizzare la versione per le munizioni pesanti per il vostro team Se volete supportarlo al meglio Il roll è un po' così e così Quindi non è niente di particolare Le guardie di Anteus con 26 di mobilità sul titano Guardie di Anteus Sistemate, non sistemate, rimesse a posto Poi rinerfate un'altra volta Un pezzo prettamente da PvP Dove mentre scivolate avete la possibilità di ottenere uno sfudo E in più rimanda indietro i danni in arrivo Si possono fare cose carine come mandare indietro i colpi delle super O cose così insomma Se volete potete usarle giusto per quello Ma non penso se si utilizzano ancora tantissimo in giro Per via dell'energia, dell'abilità di classe Quindi vedete un po' voi insomma La roca controversa invece rimane ancora Nonostante c'è ancora qualche piccola alternativa Una delle più forti per le streghe da vuoto Subisci meno danni mentre carichi una granata da vuoto Le granate da vuoto caricate ripristino una porzione dell'energia delle granate ad ogni colpo E in più sono Belle cicciotte Belle cicciotte Sicuramente uno dei pezzi più forti per la strega da vuoto Con un roll però un po' così Il roll è un po' così Poi abbiamo il falco lunare con occhio del ciclone PV pari Se proprio volete prendere un falco lunare questo è il momento giusto per prenderlo E poi abbiamo le false promesse con oscillazione ridotta fanfarone Il vulpe cula con furto a distanza e armonia e razioni abbondanti con bersaglio morbide e tremori cinetici Con perforanti poligonale e maneggevolezza Bah Tremori cinetici è quello che poi cercheremo anche sul colpo di mezzanotte quando uscirà Però nel frattempo se volete potete provare un po' questo anche se bersaglio mobile in PV Insomma non è che sia sto granché Lontano futuro con estrazione cellera e frenesia Me Campo visivo ristretto e munizioni adattive per il sottopelle Allora in realtà il sottopelle discreto Però boh sto roll è un po' così un po' particolare boh Sottopalle sì Lago e filo con telemetro arma Vorpal Sappiamo che ormai ci stanno fusioni lineare migliori Mitraellatrice pesante Vento assassino uno per tutti Della season dei pirati anche qui poca roba Quindi le armi leggendari ragazzi c'è un cacchio Armature Sono con la strega c'è il set della guerra futura E le braccia no Il petto no Il casco Il casco non è bruttissimo ma fa anche un po' schifo allo stesso tempo E le gambe tanto meno Andiamo a vedere gli altri personaggi Con la strega Scusate il cacciatore 21 di resilienza 10 di mobilità 10 di disciplina Questo carino Le braccia carine 20 di mobilità 19 di forza Sul petto Un casco No 26 di forza Tutta sta forza Tutta sta forza Regà Sul cacciatore Troppa forza sul cacciatore Che non è male eh Dovremo sempre al solito discorso Del cacciatore da vuoto Con l'omniculo Blablabla Quindi se volete potete usarlo con quelle Queste armature qua Il titano Il titano invece Il titano Con 20 di resilienza E 23 di forza Questo non è bruttino Questo pezzo Il petto 26 di disciplina 12 di resilienza 10 di recupero Questo pure Non è brutto 66 di overall Mettete una mod Magari la mettete su resilienza Avete una doppia Una doppiamenti Con il recupero a 12 Perché no? C'è posta? Questo no Quindi boh il casco E i pezzi del cacciatore Se volete puntare qualcosa sulla forza Io li prenderei Se volete Le leggendari no Prendete il falco lunare Se volete fare i pv pari La rocca controversa Anche se il roll È un po' così e così Per la strega